Mi sa che la situazione è di massimo allerta, ammette benza, qua c'è tanto traffico sul prezzo dei carburanti, la crisi, la situazione, pare che sia scoppiata la guerra, però ci sono mezzi, si devono muoversi veloci, al giorno d'oggi nella vita se non ti muovi veloci viene sopraffatto, allora abbiamo preso dei mezzi britannici, si lo stato italiano si è avvalso dei mezzi britannici per meglio essere agili sulla treda, stupenda, TB9 militare, stiamo facendo un vice perché è scoppiata la guerra però abbiamo bisogno di mezzi veloci, allora TB9, TB9 diciamo militare, secondo te sto male, e d'altronde ci si deve adeguare ai momenti, alle epoche e allora anche l'esercito si muove veloce con un prodotto british, viva la pizza! Che dici? Gli avevamo uscita a sto periodo? No. Beh c'è ottimismo, i media stanno aiutando ad avere grinta, gli avevamo? Stanno a diminuire i stanno, non siamo voluti. Andiamo, andiamo a uscire da sta crisi, c'è molto ottimismo, vai grazie, state a fare un bel lavoro, viva la vita!